Compiacimento per i buoni rapporti esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino e soddisfazione per la fattiva collaborazione delle istituzioni pubbliche e della Chiesa in campo sociale. Sono stati alcuni dei temi al centro dell'udienza tra Papa Francesco e i Capitani Reggenti della Serenissima Repubblica di San Marino, Giancarlo Terenzi e Guerrino Zanotti. La Sala Stampa Vaticana è inoltre reso noto che durante i cordiali colloqui è stata espressa soddisfazione per la proficua cooperazione fra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino a livello bilaterale e nel contesto della comunità internazionale.